95. Conjunctions 2. Congiunzioni 2. Since when is she no longer working? Da quando non lavora più? Since her marriage? Da dopo il suo matrimonio? Yes, she is no longer working since she got married. Si, lei non lavora più da quando si è sposata. Since she got married, she is no longer working. Da quando si è sposata, non lavora più. Since they have met each other, they are happy. Da quando si conoscono, sono felici. Since they have had children, they rarely go out. Da quando hanno bambini, escono raramente. When does she call? Quando telefona? When driving? Durante il viaggio? Durante il viaggio? Yes, when she is driving. Sì, mentre guida. She calls while she drives. Lei telefona mentre guida. Lei telefona mentre guida. She watches TV while she irons. Lei guarda la TV mentre stira. She listens to music while she does her work. Lei ascolta la musica mentre fa i compiti. I can't see anything when I don't have glasses. Non vedo niente se non metto gli occhiali. Non vedo niente se non metto gli occhiali. I can't understand anything when the music is so loud. Non capisco niente se la musica è così forte. Non capisco niente se la musica è così forte. I can't smell anything when I have a cold. Non sento odori quando ho il raffreddore. Non sento odori quando ho il raffreddore. We'll take a taxi if it rains. Se piove prendiamo un taxi. Se piove prendiamo un taxi. We'll travel around the world if we win the lottery. Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo. No.